La Regione Puglia istituisce il fondo regionale derivante dal versamento del 5 per 1000 e come primo atto decide di cofinanziare i funerali di Mohamed Abdullah, il bracciante, morto d'infarto mentre raccoglieva pomodori nelle campagne di Nardò nel luglio scorso. Un gesto importante, altamente simbolico, per dare un senso sociale alla destinazione dei fondi ricevuti tramite le donazioni IRPEF. Ancora pochi in realtà i soldi raccolti da quando, con una legge del 31 dicembre 2010, è stato istituito apposito capitolo nel bilancio regionale. In quel momento venne iscritta solo la somma di poco più di 12.000 euro relativa al 2007, a cui si è aggiunta quella di 9.300 euro per il 2008. Il 26 maggio scorso, in seguito ad un conteggio corretto, si è provveduta ad approvare la variazione al bilancio di previsione per un importo complessivo di 20.837 euro già introitati. Cosa farne? Via Capruzzi ha deciso innanzitutto di dare una mano al comune di Nardò. A suo favore 7.000 euro come quota di cofinanziamento per coprire i costi sostenuti dall'ente, in totale 11.000 euro dopo la morte del bracciante sudanese. Si è fatto carico Palazzo Personè della cerimonia funebre, compreso il trasporto della salma in Sicilia e la sua sepoltura, nonché l'accoglienza alla moglie e alla figlia del lavoratore nei giorni in cui è stato necessario il loro arrivo nel Salento, fino al rilascio del corpo in seguito all'autopsia. Una situazione di emergenza dopo la morte del lavoratore stagionale vittima di caporalato, la piaga che la Puglia ha riscoperto quest'anno in maniera ancora più violenta. Il 24 luglio la situazione del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera immigrata sui campi nerettini è stata il centro del vertice, convocato presso l'assessorato regionale al welfare, alla presenza tra gli altri del responsabile dell'ufficio immigrazione, del sindaco di Nardo e delle referenti di Caritasse italiane in loco. È lì che è emersa la volontà di compartecipare alle spese con un intervento di carattere umanitario nella misura massima del 65% del costo straordinario da sostenere fino appunto a 7.000 euro per evento e per ente locale richiedente.